Un dialogo aperto alle aspettative dall'ascolto delle ragioni delle parti in causa. È questo uno dei fondamenti del bilancio sociale, attraverso il quale le amministrazioni possono comunicare ai propri interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali all'interno della comunità e valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato. Le fasi fondamentali del processo ciclico di rendicontazione sociale sono la definizione degli elementi di fondo, i principi di rendicontazione sociale all'interno dell'organizzazione e la comunicazione dei risultati. In tale ambito oggi a Palazzo San Giacomo un convegno sta mettendo in luce le nuove pratiche delle città metropolitane nelle politiche urbane e le innovazioni del progetto sperimentale dell'assessorato alle attività produttive del Comune di Napoli. Noi interessa che il finanziamento pubblico non vada disperso e vada a buon fine, quindi ci interessa non restituire i fondi europei come capita sempre o quasi sempre alle regioni che si sono succedute in questi anni, basta vedere la regione Caldoro, ma anche quello di raggiungere un obiettivo che sia utile per la comunità, quindi non guardare solo all'aspetto formale ma appunto anche all'aspetto sostanziale e all'utilità sociale e quindi questa è la strada con cui noi ci cerchiamo di caratterizzare anche in vista della programmazione 2014-2020 dove si parte in ritardo da parte della regione e che noi cerchiamo di dare il nostro contributo con tavoli che devo dire sono anche fruttuosi che si stanno tenendo in queste settimane dal Comune di Napoli e da Regione Campania. Perché si possa avere bilancio sociale occorre che ci sia trasparenza, che ci sia conoscenza dei dati, conoscenza degli strumenti e che ci sia un associazionismo cittadino, se vogliamo prendere come punto di riferimento il Comune o delle organizzazioni portatrici di interesse responsabili, per cui forme costruite di dialogo e non solamente forme compulsive di reazioni individuali perché quelle non permettono di costruire un processo. La Giunta Caldoro non ci ha proprio tenuto in considerazione nella programmazione 2014-2020 cioè non siamo stati proprio convocati, consultati, compulsati, non si è fatta insieme. Con l'insediamento della Giunta De Luca questo metodo è cambiato, siamo stati coinvolti, abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo presentato i nostri progetti, adesso dobbiamo capire se dal metodo cambiato seguono però fatti perché ovviamente il giudizio non può che essere sui fatti e credo che bisogna far presto perché la Giunta ormai si è insediata dalla Giunta regionale già da alcuni mesi e quindi noi siamo assetati di avere risultati, anche perché per noi sono le uniche risorse pubbliche di cui disporremo, anche perché il Governo nazionale continua a sbagliare a non dare maggiori risorse di fondi europei direttamente alle grandi aree urbane come è Napoli ma continuano a trasmettere tutti i flussi economico-finanziari alle regioni che faticano a spendere i fondi europei.